Un saluto da Dr. Palmas, quello che ti mostro è un altro caso risolto di denti fissi con sistema bocca bionica ed è uno di quelli che a me è piaciuto in assoluto più di tutti per la resa poi cromatica dei denti che siamo riusciti a posizionare. Questa era la situazione di partenza, un paziente che aveva pochi denti rimasti, quelli rimasti erano già fuori dall'osso, stavano venendo ormai espulsi dalle arcate dentali e quello che abbiamo fatto è stato ripristinare tutti i denti con uno stadio terminale di parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea, con impianti dentali sia sopra che sotto. Quello che vedi sono già le proiezioni dei denti provvisori dopo la chirurgia. Quello che abbiamo fatto è stato posizionare quattro impianti nella parte anteriore premaxillare più due impianti speciali nelle zone posteriori a livello ptericoideo. Questo tipo di chirurgia lo eseguiamo quando c'è poco osso nella parte sopra, al posto di ricostruire l'osso, i seni macellari. In questo modo mettiamo impianti dentali nelle zone di ottima qualità ossea, evitiamo troppi viaggi al paziente. Questo che ti mostro è lo schema tridimensionale di come inseriamo gli impianti in questi casi. Come vedi, quell'azzurro in alto è il seno macellare che viene bypassato. E su di questi si va ad ancorare la doppia arcata. Sulla sinistra vedi la situazione di partenza, denti in espulsione dall'osso. Sulla destra vedi invece gli impianti posizionati nelle arcate con gli ultimi impianti, impianti ptericoidei, che inclinati evitano i vuoti dei seni macellari. Su di questi sono stati poi posizionati in maniera avvitata delle arcate provvisorie. Abbiamo proceduto col design dei denti ipotetici che avremmo potuto realizzare. Il paziente piaceva questa forma di denti che abbiamo poi mantenuto anche già nei provvisori. Queste sono le prove che abbiamo fatto in resina, in plastica praticamente. Sono dei denti stampati che servono per verificare le forme di questo design che abbiamo ipotizzato. Una volta che nella bocca del paziente abbiamo la conferma dell'altezza occlusale corretta, delle forme, del sorriso, allora siamo andati a creare, abbiamo creato quelli che erano i denti definitivi. In questo caso linea superior dei denti in zirconio con gengive iperrealistiche e qua vedi il risultato nella bocca del paziente di questi denti che sono delle vere e proprie opere d'arte. Nota come il colore delle gengive, qua riprende il colore della gengiva naturale del paziente, denti indistinguibili da dei denti naturali, in quanto sono delle repliche vere e proprie di denti perfetti che realmente esistono. Il paziente è molto contento, guarda il risultato che abbiamo ottenuto, un paziente completamente riabilitato alla vita.